e al web il timer, il cronometro, bene non sei il primo ad avere il cronometro ecco blocco il timer perché non è valido buongiorno, sono Francesco Federico allora sono di RealWeb è un'azienda che costruisce business digitale cosa significa business digitale? significa accompagnare dentro il mondo digitale le aziende dalle piccole e medie aziende alle grandi aziende questo è il nostro sito internet e questi sono i nostri principali clienti ma non vorrei parlare molto di RealWeb quanto vorrei parlare di fare una una correlazione sul che è un po' la sintesi di otto anni, dieci anni di collaborazione con aziende piccole e medie perché noi crediamo che entrare nelle business digitale come qualcuno prima ha detto significa cambiare paradigma della azienda significa portarsi all'interno dell'azienda dinamiche e modalità di lavoro quindi costi, professioni completamente diverse il che non è una cosa semplice tutti parlano di business digitale e di innovazione vi rubo un secondo per cercare di capire cos'è innovazione l'innovazione è l'applicazione di una scoperta di qualcosa di nuovo dentro una azienda quindi per la produzione cos'è innovare è fare prodotti con caratteristiche migliori e con meno componenti alcune aziende che seguiranno una in particolare Rottaliana è proprio la sintesi di questa definizione oppure innovare è rendere ai propri clienti servizi più efficaci e più utili quindi tutto quello che non rientra in queste due definizioni è regresso chi ha inventato questa macchina pensava di aver fatto la macchina più bella del mondo probabilmente ha delle soluzioni tecniche e meccaniche interessanti ma da un punto di vista del mercato è una macchina che non è vendibile 4 ruote consuma di più sprofonda perché pesa molto di più quindi attenzione abbiate bene in testa quello che significa innovare fare prodotti e rendere servizi migliori perché una azienda deve portarsi in casa innovazione parliamoci chiaro le aziende vivono perché fatturano utili quindi se in un periodo come questo di crisi io devo spendere 40, 50, 60 mila euro per un e-commerce e dopo vedremo io devo essere certo che questi soldi che metto nelle innovazioni e nei nuovi business mi ritrovano se io sbaglio muoio e nessuno di noi vuole vuole comorire quindi andiamo a prendere un esempio concreto cosa significa per una azienda di piccole e medie dimensioni fare un e-commerce guardiamoli partiamo dalla piattaforma io mi devo acquistare una piattaforma dove caricare tutti i miei prodotti perché io devo vendere questa merce e davanti ho il magico mondo dell'e-commerce dove credo di arrivare in tutto il mondo certo ma quando io pianto la piattaforma la piattaforma deve parlare con il mio gestionale che magari ha 10 anni e quindi al costo della piattaforma devo aggiungere anche il costo del codice del codice gestionale dico qui molte scritte sono rosse altre nere le rosse sono i costi aggiuntivi che voi avrete vendendo online oltre al costo del prodotto vostro quindi la piattaforma devo acquistarla il gestionale aziendale va probabilmente integrato modificato devo garantire un'assistenza a clienti devo parlare con la banca la banca è metà nera e metà rossa perché lì mi arrivano i soldi dai clienti però io alla banca devo una percentuale tra il 2 e il 5% ho un magazzino che metto nero ma in realtà un pochino di rosso ce l'ha mi devo poi preoccupare della spedizione quindi trovare oltre che andare a discutere con le banche i contratti e alcune piccole banche diciamo chiaro non sono pronte per l'e-commerce quindi devo andare su banche come banca sella eccetera che mi garantiscono determinati servizi devo riorganizzare il mio magazzino devo occuparmi e preoccuparmi di trovare un vettore che mi porti la merce in tutto il mondo devo considerare inoltre che se lavoro su mercati come quello americano la percentuale di resa del prodotto arriva fino al 30% questo significa che il sabato mattina UPS mi suona in azienda e dice guarda che ho quattro pacchi che tu avevi già in carico che ti sono tornati tutto questo funziona se metto benzina nel advertising e se ottimizzo per i motori di ricerca se faccio piacere a Google la mia piattaforma di e-commerce quindi vedete bene quante variabili incidono su un e-commerce alcuni dati due settimane fa ho assistito ad una conferenza proprio qui dove c'era Google e Google ha presentato tutta una serie di dati non voglio puntare Google noi siamo un microbo loro sono la più grossa agenzia pubblicitaria del mondo e hanno presentato tutti i dati cifre 8 miliardi di valore per l'e-commerce in Italia ad una domanda non hanno risposto qual è il fatturato medio di un sito e-commerce perché questa possa vivere sulla base della esperienza nostra questi sono alcuni dati su cui è bene riflettere il carrello medio la spesa media per un e-commerce vale 150 euro dipende dai prodotti dalle tipo di e-commerce ma sotto i 60-70 euro si chiude il margine medio con cui deve essere proposto un bene per un e-commerce è almeno del 60% dopo vedremo perché la spedizione alcune voci di costo la spedizione mi costa tra i 5 e i 10 euro la banca mi chiede tra il 2 e il 5% non parliamo delle spese del magazziniere che devo magari assumere in più oppure pagare gli costi ordinari né di assicurare le merci graffiti 2000 qui mi dirà di no ma una piattaforma mediamente buona tre lingue eccetera costa 40.000 euro giusto? magari un po' di più un po' di meno dipende il costo che ho per ogni cliente che mi porto in casa è di circa 40 euro tra pubblicità eccetera se sono una piccola cantina della della Valla Garina non ho brand nessuno mi mi conosce quindi dovrò investire molto più in pubblicità rispetto ad altri brand ricordiamoci che è vero che il prezzo è il terzo valore che fa decidere per un e-commerce il primo è il brand se io devo acquistare una cosa vado su un e-commerce di un prodotto noto magari come ufficio.com devo pagarmi il customer service una scheda prodotto dove mi si descrive il mio prodotto con le foto e tutto quanto mi costa dai 35 ai 50 euro grosso modo se voglio farla bene usare le parole giuste eccetera non mettiamo i costi di comunicazione che facciamo noi ma newsletter social media poi sono tutte cose che devo aggiungere per creare valore attorno alle e-commerce la piattaforma ha dei costi applicativi che durante l'anno devo comunque sostenere no? e dei costi evolutivi cambiamo il banner sposta questo fai il tema natalizio quindi ogni anno io investirò per la manutenzione ordinaria 10% per quella evolutiva circa dai 500 ai 600 700 euro a mese in sintesi l'investimento per una piccola e media azienda va in 40% della piattaforma 20% logistica e organizzazione interna 40% in marketing il fatturato medio è di circa 150.000 euro il break even o un e-commerce funziona nell'arco di 2 o 3 anni o non si gira più che esistono il nostro non faccio il nome del negozio è un e-commerce che è una società con cui noi abbiamo contribuito a portarla dentro il business digitale 300.000 articoli 60.000 preferenze la sede rossa e verde uno è l'articolo sede a preferenza rossa e verde al quarto anno di attività spende 6.000 euro di advertising google a 140 ordini al mese un fatturato di 21.000 euro al mese uno scottino medio vediamo 150 euro l'utile 3.000 al mese 35.000 euro all'anno break even terzo anno guardate questa cifra allora quanto quanto spendiamo e quanto diamo a google 6.000 euro quanto ricaviamo noi azienda 3.000 euro san informa in una conferenza a cui io ero presente casa farmaceutica dice spendiamo molto su google ma a volte ci sembra di lavorare per loro è vero cosa dice il cronometro cosa dice il cronometro si è spento e i dieci minuti e i dieci minuti si spende ultima slide quindi il progetto di e-commerce va prima di tutto pianificato fermatevi e fate un'analisi del vostro business delle vostre potenzialità l'impresa ha bisogno di servizi se c'è l'associazione artigiani eccetera le imprese non vanno lasciate sole perché l'innovazione è strutturale è interna dentro l'azienda quindi servono centri di studi e associazioni che facciano economia di scala un imprenditore non può parlare con la banca graffiti 2000 e n altri fornitori non ha il tempo abbiamo quattro dipendenti come facciamo ad affrontare tutto questo le aziende hanno bisogno di servizi questo serve quindi il modello di business richiede creatività magari pensiamo a degli e-commerce territoriali al posto che fare 20 e-commerce di 20 cantine trentine a parte tra min che è un colosso ma i piccoli produttori potrebbero organizzarsi con un brand vino trentino e tra questo e-commerce di una notte a casa di vino e questo con l'impatto vedete subito dove vado io ad acquistare io vado qui non ho dubbi perché trovo scelta trovo 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 ecco quello che ecco cerco oppure creiamo e-commerce di settori in trentino parliamo tanto di casa clima bene attorno al progetto casa clima creiamo un e-commerce dove le migliori aziende trentine che fanno finestre solare eccetera vendono i propri prodotti oppure una piccola azienda provi a pensare a vendere a siti di e-commerce che sono già strutturati non avrete costi aggiuntivi testate il mercato per un paio di anni e poi vedete come va grazie 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 a tutti